Musica Nella mattinata del 22 settembre scorso, Sua Eccellenza Ciro Miniero, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, ha ricevuto una delegazione del Comitato Spirito Francescano di Agropoli, Germano Rizzo, Presidente e Dottor Antonio Capano, coordinatore settore Cultura, Professor Umberto Greco, socio e studioso di Economia, e il signor Ciro Ruggero, imprenditore e titolare dell'azienda Arte Lux, guidati da Don Bruno Lancuba, Parroco della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Agropoli, con la finalità di definire con il patrocinio della Diocesi una più ampia ed autorevole collaborazione nell'ambito delle iniziative programmate ad Agropoli per celebrare degnamente il Santo di Assisi, un progetto che tende ad una riconciliazione della popolazione nei suoi confronti, in quanto da lei trattato oltragiosamente nella permanenza che ebbe nel borgo il lunedì di Pasqua del 1222, come attestato in una tradizione locale riportata fin dalla fine del XXVI secolo dell'edizione di un'importante opera del 1586 di Pietro Rodolfo da Tussignano. Sua Eccellenza ha ascoltato con viva attenzione e partecipazione dopo la presentazione fatta da Don Bruno, il Presidente Rizzo, che ha illustrato le finalità e le attività del Comitato, e ha portato i saluti di Franco Alfieri, Sindaco di Agropoli, che è Presidente Onorario del Comitato stesso, informando il Vescovo dell'approvazione da parte dell'amministrazione comunale del progetto di seggiovia che conduce all'alto e panoramico podio della statua di San Francesco, fatto realizzare da padre Sinforiano sulla collina di San Marco. Rizzo ha relazionato poi sull'incontro avuto dal Comitato con Papa Francesco nella cerimonia di Baciamanno del 4 giugno scorso e dell'incontro a Ponte Cagnano con Don Marco Frisina, direttore del concerto della Diocesi di Roma, di cui fa parte anche Paolo Avella di Perdifumo, iscritto al Comitato per rafforzare l'invito di una manifestazione concertistica ad Agropoli, basata specificatamente sulla figura di San Francesco. Inoltre, dai presenti nell'ambito delle proprie competenze, è stata illustrata la tradizione locale sulla presenza di San Francesco ad Agropoli, che è comune anche ad altre due importanti località della costiera amalfitana, che sono state raggiunte e visitate nei luoghi francescani con un viaggio del 14 settembre intitolato sulla rotta di San Francesco, ed il progetto della realizzazione di una croce luminosa alimentata con pannelli solari da fissarsi sullo scoglio di San Francesco, quale dono dell'azienda Arte Lux di Agropoli, che è stato esposto dal titolare Ciro Ruggero al Vescovo, che ha avuto parole di elogio e di approvazione. La riunione, in conclusione, si è rivelata ricca di spunti per una proficua attività futura, arricchita dal patrocinio e dalla collaborazione della Diocesi di Vallo della Lucania e dal sempre participe parroco Don Bruno Lancuba.